ciao sono anna educatrice presso la silonide nostri piccoli sorrisi di roma oggi voglio leggervi una breve filastrocca che poi rappresenteremo con le posizioni di yoga pronti partenza via il serpente striscia striscia sulla terra tutta liscia scende giù dalla montagna fino a giungere in campagna c'è in campagna un contadino che sonnecchia sotto un pino poi si sveglia lentamente e caccia via il serpente e sotto l'albero pieno di frutti che fa ombra proprio a tutti dormi dormi contadino e fa il tuo bel pisolino bene bambini i protagonisti di questa storia sono il serpente il contadino un albero iniziamo a rappresentarla il serpente striscia striscia sulla terra tutta liscia scende giù dalla montagna fino a giungere in campagna c'è in campagna un contadino che sonnecchia sotto un pino poi si sveglia si sveglia lentamente e caccia via il serpente e sotto l'albero pieno di frutti che fa ombra proprio a tutti dormi dormi contadino e fa il tuo bel pisolino bene bambini questa filastrocca è molto breve quindi potete anche impararla e poi rappresentarla col corpo e per salutarci come al solito facciamo un bel respiro portiamo le mani al pancino vediamo un po' che respirando si gonfia vedete un po' come un palloncino portiamo le mani al cuore e ci salutiamo con tanti baci pieni di amore ciao